Minaccia la compagna il primo giorno che rientra in casa per scontare gli arresti domiciliari. La donna si sente male e viene accompagnata al pronto soccorso. Per l'uomo scatta l'arresto. È accaduto ad Arezzo, protagonista un 50enne di origine romana e domiciliari, per essere stato trovato in possesso di una pistola rubata. Secondo quanto riferito dalla squadra mobile, l'uomo avrebbe pronunciato frasi minacciose all'indirizzo della compagna davanti agli agenti intervenuti in casa per sedare la lite. Dopo averlo calmato, i poliziotti sono dovuti nuovamente intervenire perché il 50enne non pago della lite precedente aveva raggiunto l'ospedale, evadendo dunque dai domiciliari, dove la donna stava effettuando accertamenti. A quel punto è scattato il provvedimento del giudice che ha revocato gli arresti domiciliari chiedendo per lui la custodia cautelare in carcere. Al momento si trova nel carcere fiorentino di Sollicciano.